buongiorno buongiorno a tutti carissimi buon fine settimana buon sabato mattina ce l'abbiamo fatta abbiamo attraversato un'altra settimana d'ordinaria follia al meglio delle nostre capacità possibilità al meglio della nostra consapevolezza tema di cui parliamo oggi un tema importantissimo dal mio punto di vista la differenza che c'è tra essere consapevoli ed essere coscienti di noi stessi lo faremo entrando in una pubblicazione mia del 23 maggio 2011 desidero riprendere un po questo post che ho pubblicato sul mio sito dadrim.org dove rispondo ad una domanda rispetto ad un passaggio molto importante di un testo di osho il testo è la vera saggezza seconda edizione tascabile bonpiani gennaio 2005 pagina 72 73 74 dopo la sigla entriamo in dettaglio su questa differenza tra vivere consapevoli che è proprio una dimensione e vivere invece coscienti di questa sorta di noi stessi che è la personalità di cui abbiamo parlato molte volte ma qui ascolteremo alcune parole spiegazioni di osho che se sarà il caso andrò anche ad ampliare dal mio umile punto di vista spero che vi sarà utile questo video come sempre vi invito a scrivere nei commenti la vostra esperienza un ritorno datemi un ritorno rispetto a quel che adesso andrò condividendo date un segnale della vostra presenza con un salutino un commento un pollice su giù siete imperatori qui quindi date date un segno miei cesari vai con la sigla allora fanciullissime fanciullissimi era il 23 maggio 2011 quando lucia mi scrisse queste parole caro pierre osho sostiene che le persone sono coscienti di sé di loro stesse ma non consapevoli non mi è molto chiara la differenza potreste aiutarmi a capire un abbraccio lucia allora io risposi qualche annetto fa cara lucia credo che nessuno meglio di osho possa spiegare le parole di osho pertanto sono andato a spulciare fra i suoi libri memore di aver letto da qualche parte una dettagliata risposta ad una domanda simile alla tua la spiegazione l'ho trovata nel libro la vera saggezza seconda edizione toscavile bonpiani gennaio 2005 pagina 72 73 74 ora qua farò una sintesi ecco le sue dirette parole qualsiasi cosa tu pensavi fosse consapevolezza deve essere stata autocoscienza coscienza dell'ego coscienza della personalità della maschera di quello che abbiamo accumulato nella nostra mente come idea di noi stessi ok sto aggiungendo para vado parafrasando vado aggiungendo sappiatelo comunque io vi ho indicato il testo se volete leggere pulito pulito il testo sapete dove andare quindi dice rispondendo ad una domanda di una persona dice guarda occhio che tu stai facendo una gran confusione quella cosa che tu pensi chiami consapevolezza in realtà non è consapevolezza è autocoscienza cioè vuol dire che hai una coscienza di un qualcosa che definisci come te stesso sì c'è sicuramente una briciolina dico io di consapevolezza ma è estremamente limitata e come estremamente focalizzata metti a fuoco una piccola parte di pensieri idee che attribuisci a te stesso le appiccichi a te stesso ed ecco allora che quel te stesso diviene una specifica costruzione che quando viene messa in discussione vacilla che quando cerca magari di modificarsi entra in forme di resistenza che quando fallisce dice attribuisce vedi ho fallito non sono stato dentro l'idea che avevo di come avrei dovuto agire insomma diventa tutto estremamente pesante e limitato ora questa coscienza di te questa autocoscienza va diminuendo ed è giusto è così che dovrebbe essere sei proprio sulla strada giusta la coscienza di sé andrà perduta solo a quel punto nasce la vera consapevolezza la coscienza di sé è una consapevolezza malata vedete anche lui lo dice c'è c'è un po' di consapevolezza di lucidità si intende questo consapevole sei consapevole di una cosa percepisci chiaramente in maniera integrale totale qualcosa è infettata è una consapevolezza malata che è divenuta sempre più frammentata come il riflesso del mio volto su uno specchio rotto lo specchio non mi ridà più l'immagine integrale coerente ma me la dà tutta frammentata la coscienza di sé è una consapevolezza malata le persone sono autocoscienti la differenza è molto sottile quanto immensa noi siamo seduti qui tu entri nell'auditorium puoi venire con consapevolezza puoi venire con autocoscienza consapevolezza vuol dire che vieni con una luce interiore che ti muovi pienamente allerta ma non allerta nel senso impaurita vigile sensibile rilassata senti percepisci tutte le cose non c'è un centro interno che aggroviglia sta facendo l'esempio di una persona che entra nell'auditorium quindi di fronte si trova tante persone e a volte vi sarà capitato siete entrati in una stanza dove c'erano tante persone al cinema teatro siete andati ad un esame all'università entri e non percepisci integralmente con questo senso di spaziosità di non interferenza ciò che c'è l'ambiente le persone come se tu fossi uno spazio limpido da cui emerge da cui un centro di limpida intelligenza percezione no c'è come un nodo tu entri e inizi mi stanno guardando starò facendo bella figura adesso magari inciampo sui gradini ma sono vestito bene oppure il narciso ecco che tutti mi guardano guardano guarda quanto sono bello sai come hanno dato su il ramo spurio di coscienza l'idea di te stesso che è una sorta di illusione di barriera che ci isola che non ci fa sentire che non ci fa vivere in maniera armonica ogni passo viene fatto in uno stato di consapevolezza il camminare il venire il sedere tutto è fatto in piena consapevolezza è bellissimo è così che il buddha cammina che una persona libera cammina lui usa spesso la metafora del buddha ma quando sei autocosciente non c'è alcuna luce all'interno sei solo cosciente delle altre persone esse sono lì di conseguenza ti fai piccolo cammini con sforza e tensione perché gli altri sono presenti cosa diranno come lo diranno come reagiranno alla tua presenza quale sarà la loro opinione è questo che succede un rimbalzo di opinioni ti chiedi che cosa stanno pensando gli altri e spesse volte proietti negli altri semplicemente lo sguardo che tu hai di te stesso se sei un narcisello eccolo che si vede il più figo il più bello della stanza se sei un insicuro mi guarderanno perché sei convinto che vedano quel che tu vedi di te stesso e questa è una grande illusione in realtà là ci sono un'infinità di persone alcune non ti badano alcune pensano che sei uno sfigato altre pensano che sei una bella persona il mondo è bello perché è vario ma qual è la verità la verità è uno stato di presenza della consapevolezza di libertà di lucidità non è questa sovrapposizione di idee che attribuiamo a questo corpo il pensiero dice io appaio in questo modo è un legame tra le idee e la figura corpo allora dice ecco che affiora nervosismo perdi il controllo cosa sta succedendo sei troppo cosciente di te sei troppo cosciente di quello che gli altri penseranno teoricamente penseranno forse alcuni appunto come vi dicevo alcuni penseranno effettivamente quello che tu stai pensando ma non è la verità in un senso profondo allora il narciso entra e per la legge d'attrazione attrae a sé persone che lo guardano in quel modo perché lui rifiuta tutti coloro che non percepiscono lui stesso come la sua immagine interna dice la persona insicura attrarrà persone simili insicure o magari persone che gli ributtano addosso un senso di insicurezza di giudizio questo la vita lo fa anche in una sorta di lezio magistralis ti continua ad avvicinare ciò che tu immagini di te stesso affinché tu lo capisca lo sciolga e te ne liberi per questo molte volte il narciso trova adoratori e alla fine soffre una solitudine estrema perché chi semplicemente ti adora e spesse volte è dentro una forte fragilità bisogno di trovare qualcuno che qualcuno che lo assorba completamente qualcuno che oltretutto il narciso non ritorna mai empatia affetto assorbe continuamente ecco allora che deve fare l'esperienza del nulla della sua immagine del vuoto della miseria della sua immagine l'altra persona magari deve fare l'esperienza altrettanto per riflesso della povertà del narciso e quindi anche della fuga che continuamente fa da se stesso colui che cerca l'arrogante il narciso l'egocentrico l'egoista attraverso quel dolore il seme si rompe e inizia a germogliare il fiorellino della libertà della consapevolezza se sei consapevole parli con consapevolezza ma la consapevolezza sorge dall'essere interiore fluisce dall'essere interiore verso gli altri l'autocoscienza viene dagli occhi degli altri verso di te io aggiungerei dalla proiezione che fai sugli altri è la paura degli altri consapevolezza e autoconsapevolezza sono due cose totalmente diverse qua secondo me il traduttore perché ho visto che tante traduzioni fanno pena consapevolezza e autocoscienza o questa sorta di consapevolezza malata parziale che chiamiamo autoconsapevolezza se vogliamo sono due cose totalmente diverse perciò se la meditazione ti fa sentire che la tua consapevolezza sta diminuendo vuol dire semplicemente che hai perso autocoscienza per acquisire consapevolezza alcuni a volte iniziano un percorso di introspezione di rilassamento di scioglimento iniziano a sentire uno smarrimento addirittura si può entrare in quella che è definita la buia notte dell'anima quando le cose come le vedevi prima svaniscono prima magari vivevi dentro certi schemi dentro certi meccanismi iniziano a svanire ma non è ancora sorto il sole del nuovo giorno e c'è uno stato di angoscia di paura la buia notte dell'anima ma come dice un bellissimo detto persiano l'ora più fredda della notte precede l'alba quindi rimani lì rimani in quel buio in quel freddo lascia che tutto si sciolga crolli affinché emerga il nuovo presto quando sarà andata la vecchia struttura la tua energia sarà trasformata la tua stessa energia sarà libertà dai confini dell'autocoscienza la personalità il ramo spurio di coscienza ora si renderà disponibile questa energia illimitata sarai più vigile sveglio presente sveglio la vita diventa armoniosa autocosciente la vita diventa fonte di infelicità sveglio realizzi il tuo essere autocosciente continua a inseguire le opinioni degli altri continua ad andare in cerca della loro approvazione l'ego ha sempre paura degli altri perché dipende dalle loro opinioni da quello che dicono dalla conferma che ti danno o magari ahimè in versione fragile in versione masochista dipendiamo anche dal dalle ferite cerchiamo persone che ci feriscono lo so sembra paradossale ma se indaghiamo un po le persone lo vediamo pensiamo a donne dentro relazioni di violenza di abuso ragazzini che sono stati abusati sin da quando erano piccoli a livello psicologico a livello fisico ricercano quello schema perché la loro falsa personalità il corpo di dolore come lo chiama Eckhart Tolle ormai si alimenta di quel tipo di sostanza come un drogato come un alcolizzato ha bisogno dell'alcol anche se lo uccide però ormai si è creata questa entità che vive di quello e scioglierla abbandonarla per noi è una morte perché si è strutturato questo corpo come l'unico corpo psichico che conosciamo e fare l'esperienza della morte del nulla di quella buia notte dell'anima è veramente impegnativo per quella volta abbiamo bisogno di un po di aiuto un accompagnamento o di viaggiare assieme a persone che fanno lo stesso percorso la coscienza di sé o autocoscienza è una grande tensione c'è sempre paura si dipende dalle opinioni degli altri e l'intera situazione è paradossale gli altri hanno paura di te tu hai paura di loro gli altri proiettano su di te tu proietti su di loro quindi capite che è un gioco di specchi è come entrare nella casa di specchi dove ogni tanto si trovano quando arrivano le giostre queste case dove ci sono tutta una serie di immagini immagini all'infinito e sono tutte illusioni una persona consapevole non ha bisogno dell'autocoscienza non ha bisogno di questa struttura alla luce della consapevolezza la fiamma del sé di questo ego scompare lei è sempre luce senza una fonte luce che si muove e vive armoniosamente non è interessata a quello che gli altri dicono di lei non nel senso che se ne frega ma nel senso che non essendoci un'entità all'interno che si nutre dell'opinione degli altri è consapevole degli altri è consapevole dell'eventuale processo di giudizio di alcune persone ma è come una stanza dalle finestre aperte i giudizi entrano da una finestra ed escono dall'altra non si appiccicano non creano sofferenza e proprio per questo riusciamo magari ad abbracciare chi giudica chi è impaurito e a volte aggredisce perché dentro di noi non c'è nulla che riverbera lo stesso livello che va in contrapposizione è lì che diveniamo più capaci di trasformare anche un po' della sofferenza delle persone che ci stanno accanto e magari sono persone che amiamo persone a cui vogliamo bene a volte è un gioco di livelli quindi dipende anche dall'intensità della sofferenza dell'altro e dal livello della tua libertà più libero sei più riesci ad essere incisivo anche in stati di particolare sofferenza non sempre perché ci sono persone che sono in una fase diciamo di estrema rigidità, chiusura quindi è un gioco di progressiva espansione di armonia e di capacità trasformativa quindi una persona consapevole non è interessata a ciò che gli altri dicono di lei è interessata a ciò che dicono e soprattutto che dicono di loro stessi per quello finalmente riusciamo ad ascoltare gli altri, ascoltare i nostri figli, ascoltare i nostri amici e dare un ritorno che sia qualcosa di minimamente trasformativo o bello, sensato la persona consapevole che sia vista come un santo o un peccatore lei è completamente indifferente perché sa chi è, è lei e lo sa così totalmente che non ha bisogno di chiedere l'opinione altrui sa di essere in armonia, sa di essere serena, libera, di non commettere azioni sciocche mosse dall'ignoranza quindi spesse volte distruttive si può sbagliare ugualmente, può succedere un errore ma immediatamente ci si corregge perché sappiamo che ci stiamo muovendo attraverso onestà, verità, lucidità, consapevolezza bene ci tenevo a leggervi questo passaggio perché è veramente illuminante secondo me questa differenza tra essere coscienti di noi stessi come un qualcosa che ha limiti, che ha distanze che deve tenere barriere per forza anzi e soprattutto le crea perché a volte è comunque necessario creare una distanza da persone distruttive ma è un dramma quando noi continuiamo a creare distanze, continuiamo a creare giudizi allora una cosa è la personalità, l'autocoscienza ricordatevi questo esempio di entrare in una stanza, in un auditorium, in un luogo pieno di persone sentirsi a disagio o sentire un'energia che lavora all'interno, che si aggroviglia alcuni proprio si esaltano, vogliono addirittura sempre essere di fronte alle telecamere mi pare che ne abbiamo un po' troppi di recente dai politici a certi soggetti di spettacolo non hanno un'arte, non hanno un'arte politica, non hanno un'arte di nessun tipo forse hanno una malattia, quella di dover essere al centro dell'attenzione poi ci sono persone invece che sono l'altra faccia della medaglia ma la medaglia, il materiale è sempre lo stesso è autocoscienza, è ego in senso che ruota su se stesso il cane legato al palo è egocentrismo la medaglia è fatta della stessa materia una materia dura allora da una parte abbiamo colui che cerca di essere sempre visto, glorificato ed è una dipendenza, è una droga dall'altra parte c'è chi teme il giudizio, lo fugge o addirittura scivola dentro le relazioni dove viene svilito, viene umiliato viene mortificato il processo di introspezione, conversione, come l'abbiamo anche definita a volte il risveglio ci libera da questa entità illusoria che si è creata all'interno, dentro di noi per vari motivi oggi ad esempio c'è proprio un processo educativo, formativo, malato che la amplifica anziché creare un vasto spazio di consapevolezza e coscienza genera una cristallizzazione di idee associate a questo corpo, alle sue esperienze, a come dovremmo essere, agire e non agire una cosa pessima è per quello che molte persone poi ad un certo punto non trovando una via d'uscita iniziano a divenire meccaniche perché preferiscono divenire esecutori di ordini, di schemi che arrivano dall'esterno perché più eseguo più non mi sento responsabile è anche il motivo del perché ciclicamente le nostre società entrano in conflitti e in follia per esorcizzare, liberare la nostra coscienza profonda da questo parassita dall'autocoscienza la coscienza ampia, consapevole a volte se non trova la trasformazione lucida, voluta perseguita individualmente esorcizza questo peso attraverso la follia di massa la distruzione di tutti gli schemi pensate alle grandi guerre pensate alle azioni che compie l'uomo quando si sente partecipe di una massa quando è parte di una massa riesce a buttare fuori il suo narcisismo l'egoismo, la paura, la rabbia a volte le persone che un tempo sembravano più minute, timide a livello psicologico minute quando riescono a svanire nell'ordine nel meccanismo di massa possono divenire i più spietati esecutori di cose atroci perché in realtà la loro fragilità li aveva colmati di rabbia di paure di cristallizzazioni calcificazioni psicologiche ed ecco che riescono in un fuoco di follia a sciogliere tutto ciò ma in realtà è perdizione è sprofondare negli abissi, nell'inferno noi ogni tanto cerchiamo queste forme di follia collettiva sono possessioni cioè è un esorcismo in realtà falsato è l'esorcismo proposto ingannevolmente dal male perché sono forme di follia diffusa la persona che cammina lucida, sola, ascoltandosi e demolendo in maniera consapevole sciogliendo in maniera consapevole l'autocoscienza il ramo spurio di coscienza non ha da temere è difficilissimo magari può scivolare un attimino in questi meccanismi in questi condizionamenti in questa sorta di movimenti di massa ma se ne accorge immediatamente perché torna a chiedersi cosa sto facendo perché io lo sto facendo io come consapevolezza io sono responsabile di questa scelta sto per aggredire sto per far male sto per giudicare sto per discriminare ed ecco davvero allora che entriamo in un processo che genera una società priva di giudizi distruttivi inclusiva in senso non devastante della diversità ma che include la diversità perché è una società amorevole e non ideologica includere con l'amore significa abbracciare nella diversità includere ideologicamente non discriminare ideologicamente se guardate porta ad un processo di annientamento delle differenze comunque questa cosa l'abbiamo trattata più volte in maniera ampia adesso io mi fermerei qui perché altrimenti divaghiamo un po' troppo va bene è un bel testo questo di Osho la vera saggezza Tascabili Bonpiani gennaio 2005 pagina 72, 73, 74 per questo specifico frammento vi devo dire che secondo me la traduzione non è eccezionale come la disastrosa traduzione della prima ed ultima libertà di Giddu Krishnamurti che se leggete in inglese anche se capite pochino l'inglese vi assicuro che il risultato è migliore che leggerla in italiano almeno l'edizione che abbiamo visto più volte però ahimè mi pare l'unica edizione vabbè comunque qua ci torniamo su questi temi li prendiamo da destra a sinistra sopra sotto eccetera secondo me alla fine come diceva il buon Socrate a forza di sfregare pensieri concetti anima emozioni alla fine iniziamo a mettere a fuoco a realizzare questo spazio reale consapevole ci fermiamo qui io vi auguro un buonissimo fine settimana di consapevolezza e non di autocoscienza e vi ricordo che il vostro sostegno è importantissimo è fondamentale per andare avanti con questo lavoro adesso scorreranno i dati chi volesse può fare un abbonamento mensile attraverso Paypal o IBAN oppure potete dare un contributo una volta ogni tanto ci vediamo lunedì sera con la diretta la notte dei frati dove parleremo beh non vi anticipo niente è un tema che mi sta molto a cuore molto bello ci vediamo lunedì sera alle 21 un abbraccio a tutti ciao un abbraccio a tutti un abbraccio a tutti un abbraccio a tutti un abbraccio a tutti un abbraccio a tutti